Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video Oggi andremo a mettere una super allerta meteo proprio per questo momento Oggi di allerta meteo ne usciranno due Una di questa mattina per quanto riguarda le ore almeno fino a quella di pranzo E oggi pomeriggio fino a sera Per essere più precisi Ebbene si in questo momento si sono andati a creare i temporali tanto attesi Che abbiamo previsto nei scorsi giorni Ma prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un mi piace e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati E non perdere nessuno dei nostri video Per voi non conta niente Ma per noi è di fondamentale importanza Inoltre in questo modo rimanete sempre aggiornati Perché i nostri video e le informazioni arriveranno direttamente sul vostro dispositivo Tramite una notifica Così da non dover sempre cercare informazione Inoltre è gratis Grazie per l'iscrizione Detto questo andiamo proprio a vedere la situazione Bene, due super celle intense si stanno creando Si sono create qua tra Novara, Milano e Monza Qua come possiamo vedere da queste immagini C'è una qua su Giussano vicino a Como Un'altra che si è creata sul Novara E che già durante la nottata ha portato dei danni E un'altra sul Monferrato Queste precipitazioni poi nelle prossime ore si sposteranno verso Pavia Crema, Piacenza, Milano E come possiamo vedere anche da queste immagini Di intensità molto molto forte Sono già partiti dall'anticipo Perché con questa intensità Non si erano previsti durante la mattinata Ma come sappiamo I temporali sono difficilissimi Da capire e da prevedere Nell'orario preciso e la loro direzione Ma quello che possiamo dire È di tenere massima attenzione Per le prossime due ore circa Sulla zona tra il Piemonte e la Lombardia E anche parte del Veneto Perché poi questi temporali sono destinati a spostarsi verso Brescia Verona, Mantua e Parma Questo qui è un'allerta che riguarda almeno fino a mezzogiorno Quindi fino a mezzogiorno ci saranno questi gruppi di cellule temporalesche E altre si inizieranno a formare come si può vedere Attenzione perché anche delle stabilità e delle temporali Si stanno andando a creare sulle coste della Toscana Del nord ovest e della Liguria Vi ringraziamo della visione E vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale Lasciate un mi piace e attivate la campanella Per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo